e metterti dietro no ancora e che andate e ritorno adesso gli fa la fiancata colori che brutto punto per fondere d'altronde sarà qui fermo allo stop e gli è morta qui non si sa dove forse una volta ci ha buonato 40 centesimi ma si buttiamoci tanto chi cazzo se ne fote vero? ma allora veramente sei scemo e questo qui lo sopasserai tra un mese probabilmente che c'è facciamole vedere tutti voi e quello che succede succede tu lo sai che quelle due se si vedono sono guai avevamo scampito che non si vedevano mai sono come il cane e il gatto che vivevano subito che cazzo sta facendo? che cazzo sta facendo? 3 ore che sta cercando di fare in versione grazie no sta fermando lì sono anche a punto con quel cazzo di poso non so che cazzo ho toccato ok hai delle cose che lavoravo dalla Laura? no però è diventato qui ok Allora No Vieni a fare la fiera Puoi uscire? Grazie Quelli con la smart Altri fenomeni Grazie